Gli house concert sono il contesto più bello che un cantautore può desiderare perché ti mettono a contatto con le persone se vuoi non hai amplificazione, quindi stai facendo una chiacchierata, diventa un dialogo e non c'è quel caos che ci può essere quando suoni in un locale e non c'è quella distanza che ti dà il palco perché il palco crea distanza, ti mette il riflettore puntato addosso e perdi il livello di, come si dice, conviviale della musica che secondo me è quello principale perché io comunque sono cresciuta che suonavo la chitarra tra gli scout o suonavo la chitarra con gli amici al mare e quindi la house concert mi ha ridato questa dimensione che stavo perdendo perché poi quando fai questa professione davvero ti perdi tra tante persone, palchi diversi invece no, la house concert no il bedding concert è un'idea nuova, diciamo bellissima che ho sostenuto dall'inizio e che sosterrò per sempre perché l'autrice di questa idea è Valentina Esu con cui già iniziai a fare house concert qualche anno fa la differenza è una sorta di protesta velata perché non si può più fare musica da nessuna parte che non sia un palco quindi ci vuole sempre il posto autorizzato e questa è una cosa che è così burocraticamente ci vuole l'autorizzazione e sembra quasi che gli unici posti autorizzati debbano essere appunto i palchi se io voglio suonare in strada oggi è sempre più difficile e non si capisce perché e quindi lei ha pensato va bene non mi fate fare musica qui o là perché ci sono le autorizzazioni però non mi potete impedire di farlo nel mio letto e quindi niente, si creano questi incontri perché sono degli incontri in cui gli artisti si prestano a suonare sul letto e quindi le persone ascoltano, fanno domande, interagiscono non è un vero e proprio concerto definito così è più proprio un incontro un incontro tra l'artista, la musicista e chi ha davanti ed è una cosa che va sostenuta fortemente perché ci vuole coraggio a continuare a portare avanti queste iniziative a continuare a portare avanti